Bandiere, corona dall'oro, pennacchi e autorità, tutto pronto per celebrare il 156esimo anniversario dell'Unità d'Italia. All'altare della patria si onora la storia, il sacrificio e la cultura di un paese che ha superato drammatici conflitti. Occasione di impegno comune, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella commenta il giorno della commemorazione dell'Unità. Ha partecipato alla deposizione simbolica della corona dall'oro ai piedi dell'altare della patria anche il Vice Sindaco Capitolino Luca Bergamo. L'emozione di partecipare? È sempre molto intensa, è un luogo così fortemente simbolico della storia del paese, c'è anche un'aura speciale. Come mai bisogna continuare a celebrare questo giorno? È importante mantenere nel corso della storia di una società degli appuntamenti che diventano a suo modo dei riti, ma coeriti noi non solo ricordiamo ma ci costruiamo il futuro. Una giornata per ricordare quanto valgano gli ideali di indipendenza, pace e democrazia che molto spesso oggi vengono dati per scontati o dimenticati.